La professione della fotografia nel cinema, nel senso del direttore della fotografia, come è definita tradizionalmente o quella di autore della fotografia, come si tende a definire in modo più contemporaneo e giusto, è sempre esistita da quando esiste il cinema, perché c'è sempre un uomo vicino alla macchina da presa, era l'operatore, perché non c'era il regista, il regista è venuto molto dopo, voglio dire, c'è sempre esistita questa figura del direttore della fotografia e adesso autore della cinematografia in quanto si tende a considerarlo come un coautore del film, essendo il cinema immagine non si capisce perché, un musicista è un coautore di un film e colui che cura le immagini del film non è niente in pratica, è qualcosa che va sanato, ma siamo sulla strada di farlo, perché in 14 nazioni europee questa figura è riconosciuta nella coautorealità, che non vuol dire niente, vuol dire soltanto difendere il film fino alle sue riedizioni, senza che qualcuno ci metta le mani, non si parla dei registi, intendiamoci, il lavoro con i registi può continuare anche dopo, deve continuare anche dopo, se a un certo momento insieme a un regista con il quale ho fatto un film, gli dicendo Luciano io ho voglia di rifare in una riedizione nuova il mio film, facciamoli insieme, perché effettivamente, altrimenti facendolo da solo, mette comunque le mani sul mio lavoro e questo non è giusto, almeno che sia avvertito, insomma, invece purtroppo il costume è diverso. L'importanza poi durante le riprese, insomma basterebbe assistere alle riprese di un film per capire che due terzi del tempo della giornata di lavoro viene impiegato dall'autore della cinematografia, il quale deve mettere in atto quelle sono le idee del regista ed insieme anche dargli un tono, un tono fotografico, cinematografico, no? Quindi è un'operazione molto delicata di questa simbiosi fra il regista, che è l'autore dell'opera, e i suoi coautori, e di complessi gli sceneggiatori, cioè nel campo per esempio della sceneggiatura il regista naturalmente può essere uno dei coautori o anche autori fondamentali della sceneggiatura, ma se c'è uno sceneggiatore che lavora con lui, è fatale che il cosceneggiatore, specialmente Hollywood per esempio, se un attore dice no questa battuta io non riesco a dirla, non è che la cambia il regista, non può farlo, deve chiamare lo sceneggiatore del film il quale cambia la battuta finché non funziona, cioè ad ognuno le proprie responsabilità in qualche maniera, se vogliamo mantenere una professione, se invece vogliamo una professione totalmente libera, in cui ognuno prende una piccola macchina e si fa il film da solo con due o tre amici, è bene, l'ho fatto anch'io, però non pensiamo di poter fare professioni reporter o tutti gli altri che ho fatto io, parliamo dei film di Fellini o di Scola, fatti in tre persone, non si fanno quei film in tre persone, dipende a cosa, abbiamo avuto una cinematografia negli anni, nei decenni, dove c'era tutto, c'era il grande film, il piccolo film, il medio film, la commedia, il film drammatico, quella è un'industria cinematografica, cosa gli interessa? Avere una popolazione di artisti che non arrivano a esprimersi perché poi i loro film, se non vanno nelle sale, non hanno nessun significato, cioè fare un film per tenerselo a casa, cioè che tipo di operazione è? Il cinema, nell'intuizione dei francesi, non è stato inventare il cinema, è stato diffonderlo, mandarlo nelle sale, o perlomeno mandarlo in televisione, e non alle due di notte, ma a una proiezione, poi insomma su un piccolo schermo non lo concepisco, la proiezione di un film, io concepisco il cinema, quindi ecco, sono un po' estremista, lo riconosco, però ci tengo a questa sorta di estremismo. I miei film li voglio vedere su un grande schermo, minimo, benissimo, su questo schermo che avete qua, complimenti grandissimi perché la qualità della proiezione dal punto di vista visivo e sonoro è perfetta, io non posso complimentarvi, dato che questa è una cosa rarissima, oggi si proiettano in modo assurdo, vengono chiamate, veniamo chiamate a fare delle masterclass e poi il materiale che proiettiamo è riconoscibile, e quindi cominciamo a mettere ordine già in questo, e voi in questo siete un esempio, lo dirò dove vado, che voi siete un esempio, perché proiettate, non tradite il materiale di cui parliamo, bello o brutto che sia, lo fate vedere per quello che è, e questo è già una grandissima forma, forse è difficile immaginare, ma non è difficile, quanto rispetto noi risentiamo, io risento in questa cosa, nei confronti del mio lavoro, oggi era un film che non riguardava me, parzialmente, perché riguardavo due giganti del cinema come Fellini e Scola, no, e vederlo in condizioni perfette, cioè a me mi ha fatto piangere in pratica, cioè mi ha commosso completamente, perché ho visto, ho riconosciuto nella proiezione quello che avevamo fatto sul set, perfettamente riprodotto, questo è il cinema, ma noi il modo come lo facciamo, piccolo o grande che sia la macchina, ha poco significato questo. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.